In tema di politiche comunitarie vi è libera la proposta di risoluzione sul programma della Commissione europea per il 2016. È stato approvato un suo emendamento, quali sono i contenuti? L'emendamento riguardava il TTIP che è un trattato tra l'Unione europea e l'America che qualora venisse approvato porterebbe dei danni enormi alla nostra nazione, all'Italia e all'Europa per cui ci saranno molte problematiche per il nostro Paese in quanto verrà tutto liberalizzato, non ci saranno più i marchi protettivi per i nostri prodotti alimentari, non ci sarà protezione per le nostre piccole e medie imbrese, non ci sarà protezione per gli enti pubblici perché tutto potrà essere acquistabile, quindi è un trattato capestro che oltretutto è riservatissimo, nessuno ci può accedere, nessuno lo può vedere, per cui credo che noi non dobbiamo cadere in questa trappola del TTIP perché di fatti la Cina non l'ha firmato. Quindi credo che con questo emendamento abbiamo voluto dire alla maggioranza attenzione, state attenti a quello che scrivete, affermate che siete contrari a questo perché questo potrebbe cambiare le sorti del nostro Paese, non solo adesso ma anche per le future generazioni.